Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi voglio provare a fare una ricetta che mi è stata lasciata da una delle vincitrici del giveaway, cioè la torta brisè con ripieno di zucca. La base è molto semplice, ha soltanto quattro ingredienti. Consiste in farina, io userò quella di riso perché è senza glutine, olio, sale, questo è iposodico, che è quello che usano i miei qui, e acqua. Fì qui ce la potremmo fare. Allora, bilancia, oggi facciamo le cose per bene. Terrina, che è enorme, 400 grammi di farina, che è tutto il pacchetto, 75 grammi di olio, un pizzico di sale, e poi 100 ml di acqua. Si versa quella naturale? Beh, sì, si può e la mangia. E adesso che abbiamo questo bellissimo composto, prima che si addensi tutto e mi lasci un occhifezzo, amalgamo. Manine, aspetta che le lavo. Manine pulite! Non basterà mai quest'acqua. Ah, forse perché ho utilizzato la farina di riso, e quindi magari è più friabile e necessita più acqua. Ecco, qui è quando vorrei un aiutino, una manina esterna che mi versa l'acqua. Acqua! Allora, mi trasferisco sul tavolo perché è più comodo. L'obiettivo, come sempre, è ottenere una pallina omogenea e non lanciarla per terra. Guarda! Incredibile, ma vero? Ma ce l'ho fatta! In realtà nella ricetta non c'è scritto di metterci la pellicola, ma siccome io so che lo fanno tutti, voi sapete che io vado per imitazione in questi casi, perché non sono capace, la mettiamo nella pellicola. Voilà! Eh, fa figo, eh? Fatta la base, adesso passiamo alla farcia, che sarà a base di zucca. Ho precedentemente cotto la zucca, io compro la zucca delica, che è una varietà di zucca verde scuro, un pochino schiacciata in mezzo, sembra quasi un donut. A me, personalmente, piace soltanto se l'interno è un arancione scuro marrone, perché quella, fatta così al forno naturale, sa proprio di castagne. Mentre a volte può capitare che compriamo una zucca che, dentro, si presenta giallognola, arancione bianca, e quelle davvero non sanno di niente, sono più cattive. E, recentemente, mia mamma ne ha comprate ben due di queste zucche, quindi, ho pensato che fosse il momento perfetto per fare questa ricetta. Quindi, dopo averla tagliata a spicchi, buttata in forno, e lasciata cucinare per 40 minuti a 180-200 gradi, in realtà non sto molto contro la temperatura, perché ogni tanto apro e controllo che sia cotta, vedendo con la forchetta che passa attraverso. Adesso prendo questa terrina, che è quella di prima, ma che ho lavato, così non sporco tanto. Mamma, sei contenta? Mamma, sei contenta? Ah, mamma! Prendo la zucca. Ah, una cosa, non buttate via i semi, perché se li lavate, potete poi asciugarli e passarli in forno, e fare i semi di zucca, come quelli che comprate al supermercato, solo che in questo modo sono davvero gratis, e non si butta nulla. E adesso vado a tirar giù la polpa dalla zucca. Vedete come non è verde scuro, ma è questo verdogno, lo triste, poi è bella umida, quando sono umide, no, no, quando si bagnano così... Ah, disastro. Qui adesso parte la musica. E per voi sembrerà che io l'ho fatto in 30 secondi, nemmeno in 10, 5, 4, perché se non ho detto che i video sono troppo lunghi. Invece sono qui da 20 minuti! Adesso che ho tutta questa zucca, sarebbe da frullarla e passarla. Ottimale sarebbe il mini peamer. Eccolo così. Ma secondo voi io ce l'ho? Allora, in realtà sì. Ma l'ho rubato mia mamma e me lo sono pulato a piacenza. Quindi adesso useremo i bimbi. La zucca è stata pureizzata. Come spezie aggiungiamo un po' di noce moscata, perché è la morte sua. Aggiungiamo un po' di aglio in polvere. Un pochino di pepe. Come sapete io adoro. E infine aggiungiamo della cipolla che ho fatto imbiondire in acqua e aglio, perché è la punta dolce della ricetta. E vado a finire di frullare il tutto. Ottimo! Siccome la ricetta normale chiama per una farcia zucca e ricotta, io di ricotta non ne ho. Quindi userò un panetto di quark. Lo aggiungiamo alla zucca e frulliamo. La farcia è pronta. Adesso la lasciamo qua a riposare. Sei qui e non ti muovre. Ciao ciao! Quindi adesso tiro fuori la palla dal frigo e la vado a stendere sulla carta da forno o sulla teglia. Per stenderla la divido in palline e con le mani. Quindi ho steso l'impasto su tutta la teglia. Me ne è rimasto un'altra quasi metà, quindi io ne farei anche un'altra dopo. Quindi adesso vado a riversare il ripieno qui. Adesso la inforno come da istruzioni sul libretto per 180 gradi per 40-55 minuti. Ho trovato questi due pirottini in silicone e siccome mi ha avanzato dell'impasto voglio provare a utilizzarli e vedere come viene a farli in monoporzione anche per vedere quanto sia pratico o fattibile portarseli in giro o comunque avere delle monoporzioni. Allala! Sembra venuta molto bene e sono contenta. Ragazzi, incredibile ma vero ma ce l'ho fatta. Riassunto. Alla fine mi è venuta una torta grande due piccoline e una così. La pasta regge non si è afflosciata ma come vedete è integra quindi è venuta bene peccante e solida. Cosa farei di diverso? Metterei più farcia. Qui la prima che ho fatto per cercare di dividerla ne ho messa di meno e infatti è venuta con dei buchetti e si vede anche il fondo quindi potevo metterne di più cosa che ho fatto in quest'ultima che come vedete è tutta piena bella farcita e infatti mi ha avanzato del ripieno che potevo benissimo utilizzare qui. Comunque sono molto contenta del risultato il taste test verrà fatto dopo l'ora di pranzo con mia mamma che è un giudice molto cattivo e soprattutto imparziale è vero una cosa che ci tengo a dire è che questa ricetta contiene soltanto 6 ingredienti farina, olio, acqua, cipolle, zucca e quark e spezie varie e ha una resa pazzesca ed è completa di tutti i macronutrienti una ricetta equilibrata e bilanciata e sana in quanto ci sono i carboidrati della pasta le proteine del quark e i grassi dell'olio quindi io spero che questa ricetta vi sia piaciuta adesso assaggiamola con la mamma allora quella tonda sembra bruciata perché un pochino lo è buonissima no perché avevo messo meno farcia poi mi era avanzata avevo visto che erano avanzati cioè che si erano fatte dei buchetti ho detto cavolo dovevo metterne di più allora l'ho rimessa solo che rimettendola si è bruciata quindi adesso la tagliamo ok tu ti prendi questa che è venuta più buon ciocchiata ma sono un po' di più qualunque questo si vai allora è una torta brisé senza burro tu che sei imparziale e spesso cattiva scusa è vero aiuto ho paura non ti piace il gusto è buono manca parmigiano manca sale al limite quella ma è dura è dura si è bruciata devi assaggiare quella lì molla secondo me vediamo assaggia quella che forse non è dura solo che è la farina di riso secondo me è anche il problema è uguale è la farina di riso è buona